Il 22 maggio il Consiglio regionale ha approvato 5 ordini del giorno, due presentati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza per favorire l'impegno dei vigili del fuoco volontari, gli altri proposti dalla minoranza per salvaguardare i diritti dei dipendenti della Graziano o Erlicondi Garesio, per regolamentare le autorizzazioni per le centraline che producono energia idroelettrica sui corsi d'acqua e per conoscere i piani di investimento della Fiat in Italia.